E' un fiume in piena l'ex sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, dopo le ultime vicende politiche che hanno visto la rottura tra le forze di centrodestra. Dopo la fuga in avanti di Fratelli d'Italia con l'annuncio della riconferma della candidatura al primo cittadino uscente mandato a casa dai consiglieri comunali, escono allo scoperto gli alleati che non hanno condiviso modi e tempi del partito della leader Giorgia Meloni. In Forza Italia si fa strada all'ipotesi a Liberti dopo il passo indietro di Mario Santocchio. Il partito azzurro non confluirà comunque sulla candidatura proposta dal commissario provinciale Gambino. E' pronta, arriva la presa di posizione del dottore Salvati. Ripartiamo dalla buona politica. Quello scelto non è solo un motto. Se ho deciso di ribadire la definizione di buona politica è perché questa racchiude i valori umani, gli ideali politici, il governare nell'esclusivo interesse dei cittadini, l'onestà intellettuale e l'amicizia. Remare nella stessa direzione è un obbligo per chi fa parte di una squadra che sia politica, sportiva o lavorativa. Per questo motivo, avendo ricevuto da Fratelli d'Italia la candidatura ufficiale a sindaco per la terza volta di fila, non mi lascerò destabilizzare da chi ancora oggi, piuttosto che guardare ad una città ferma nello sviluppo, per la caduta dell'amministrazione, crede ancora di potermi tirare per la giacca facendomi fare un passo indietro. I passi nella politica si fanno esclusivamente in avanti, Scafati non ha bisogno di giochi di potere che rallentano la crescita, ha bisogno invece di uomini e donne animati da valori e spirito di servizio. Spirito di servizio per la cittadinanza, di rappresentanti del popolo e non di poltronisti. Siamo indipendente questa città dal ruolo che si va a ricoprire, perché tutti possono concorrere alla sua crescita e con questo spirito, con questi ideali, che già 80 onesti scafatesi, uomini e donne hanno aderito al mio progetto di buona politica. Hanno sposato un piano di crescita, di sviluppo, di rispetto, di forte amore per la città. Tutti insieme faremo passi avanti ringraziando Fratelli d'Italia per l'ennesima opportunità, dopo aver riconosciuto che l'amministrazione salvata in quattro anni ha fatto tantissimo, uscendo dal Covid, uscendo dallo spettro del dissesto, uscendo dal deserto degli uffici comunali per la mancanza di personale, uscendo dai cantieri bloccati, dalla città piena di rifiuti. Noi, 80 amici animati da spirito di crescita e di servizio, non ci fermeremo, siamo aperti al dialogo con quelle che da oggi definirò componenti morali di una città che ha già ripreso negli ultimi quattro anni il cammino per tornare capofila dell'agro. Lo farò grazie ad 80 persone che amano Scafati e che non si piegheranno mai agli interessi personali per lasciare la buona politica. Intanto, dal Movimento 5 Stelle interviene la coordinatrice Virginia Villani. Stiamo lavorando ad una proposta progressista condivisa per arginare l'avanzata della destra, dice. L'appello della coordinatrice del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno, a margine della riunione di ieri con le forze progressiste, dice il momento di pensare alla città. Continuano gli incontri fortemente evoluti al fine di poter valutare e sintetizzare tutti gli aspetti programmatici, rispettando tutte le forze che stanno partecipando al tavolo. Il nostro auspicio, dice Virginia Villani, è che si giunga nei prossimi giorni ad una determinazione unitaria. Non farlo sarebbe un errore imperdorabile. Al vertice di ieri hanno preso parte Campania Libera, Scafati Arancione, PD, Free Scafati e naturalmente Movimento 5 Stelle e PER, per chiarire le varie posizioni politiche delle forze coinvolte nella coalizione. Oggi abbiamo veramente la concreta possibilità di arginare l'avanzata della destra e tentare di rinnovare la classe politica di una città devastata da una gestione clientelare e personalistica, dice. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle chiede a gran voce a tutte le forze politiche coinvolte uno sforzo ulteriore nella direzione di una sintesi unitaria nel solo ed esclusivo interesse di Scafati, avendo come unico faro le linee programmatiche, solo così è possibile realizzare un progetto alternativo reale che punti concretamente al governo della città.